Siamo insieme a Dottor Giuseppe Maria Domenico Barbera, Presidente dell'Associazione Tradizionale Pietas. Presidente Barbera, l'Associazione Pietas sta adottando un nuovo logo. In che cosa consiste? Questa sera presentiamo un nuovo logo dell'Associazione Pietas, simbolo di tutto quello che è il nostro sentimento nei confronti del mondo antico, ossia il sentimento della Pietas, che per gli antichi era un sentimento di dovere, dovere verso gli dèi, verso la patria, la famiglia. Questo sentimento dei dovere implicava una scelta di vita morale molto importante, con l'accettazione di regole etiche naturali molto semplici. Il nuovo logo della Pietas riprende in sé l'immagine della dea Pietas tratta da alcune monete romane, dove la divinità è nell'atto pio di fare delle offerte. Come vedete, nella mano ho una patera, un antico oggetto nel quale veniva inserito il pane di farro per quelli che erano i riti della comunione con gli dèi. Nell'altra mano, invece, il cofanetto dove veniva tenuto l'incenso. L'utilizzo dell'incenso come aroma profumato per i riti è presente sin dalle epoche più antiche ed era considerato un profumo adattissimo ad attivare il rapporto e il contatto col divino, con il sacro. In basso, un piccolo altarino con una fiamma. Questa immagine, così come è tratta da alcune monete romane, diventerà presto il nostro nuovo logo. Un nuovo logo, sì, perché al peregrinare di Eneo si vuole adesso stabilire un gesto di cambiamento, così come fu un cambiamento per Eneo e i suoi compagni troiani stabilirsi nel Lazio. Ecco, da oggi la Pietas trova una sua nuova stabilità. L'associazione ha così scelto questo nuovo logo che è meglio manifesta il suo rapporto con il sacro, la caratteristica della nostra associazione di studi sulla sacralità del mondo antico, sulle divinità, sulla mitologia, sulla filosofia greca e romana, su quello che era il significato del mito letto in maniera esoterica come ci insegna Socrate. E' così anche l'approccio matematico alla vita di tutti i giorni, così come vivevano gli antichi romani, leggendo in ogni movimento del quotidiano un movimento del sacro, un messaggio del pan. Quindi la Dea Pietas indica quel sentimento di dovere verso un'idea molto antica che noi abbiamo, un'idea che ci è tramandata dai nostri padri e dai nostri antenati, alla quale ci teniamo fortemente legati e che vogliamo trasmettere ai nostri discendenti, così come Enea, portando sulle spalle il padre Anchise, porta con sé la sapienza e il sapere dalla città di Troia e lo trasmette a suo figlio Ascanio, il quale sarà il prosecutore di una tradizione. Nel centro del vecchio logo vi era il palladio, la Dea Minerva che rappresenta la via della sapienza, quindi la ricerca del sapere, sapere tramite gli studi scientifici, filosofici e altro ancora, così come veniva fatto nel modo antico, e ancor più noi vogliamo ribadire questo senso di dovere verso lo studio delle nostre tradizioni anche con l'idea Pietas. Dunque è un nuovo logo per una nuova Pietas. Sì, l'associazione da oggi inizierà tantissime nuove attività, con presto avremo un nuovo forum, tantissime iniziative alle quali sarà possibile aderire da tutta Italia. Continueremo, come abbiamo fatto fino ad oggi, a creare sempre più realtà territoriali affinché la Pietas possa divenire una presenza nazionale che possa continuare a sensibilizzare la gente su quelli che erano i temi del mondo antico, della sacralità, dell'approccio verso il mondo quotidiano, affrontati con un'ottica diversa da quella del semplice studio scolastico, perché sappiamo bene che sin da bambini veniamo educati ad una visione del mondo antico, ma oggi le ricerche archeologiche e storiche dimostrano che la nostra visione degli antichi è limitatissima. Tantissime nuove scoperte, tantissimi nuovi testi sono venuti alla luce, oggetti, cose così incredibili che sarebbe un peccato non parlarne al pubblico e non diffondere questo nuovo sapere che c'è sul mondo antico. Grazie molte. Grazie. Grazie.